Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi! Noi siamo i Giullari e vi diamo il benvenuto nella nostra mansarda! Nell'ultimo anno e mezzo su questo canale abbiamo pubblicato un sacco di video e in tutti il nostro motto è sempre rimasto Si gioca per giocare! Perché per noi il gioco è divertimento e stare insieme in allegria! Ogni lunedì e mercoledì ci sfideremo o collaboreremo ad uno dei titoli presenti nella nostra collezione! Saranno novità oppure grandi classici, giochi adatti a tutta quanta la famiglia oppure per giocatori esperti! E in ogni caso quello che vogliamo fare è aiutarvi a capire se il gioco può fare per voi! Ogni venerdì vi parleremo dei titoli a cui abbiamo giocato durante la settimana! Saranno le nostre prime impressioni, molto di pancia e soprattutto senza peli sulla lingua! Pubblichiamo anche molti contenuti extra su tutti i nostri social ovvero Facebook, Instagram, Twitch e il canale Telegram! Proprio su Twitch ogni giovedì sera assieme al nostro fantastico regista Damiano mi vedrete impegnato a giocare assieme a voi oppure ad approfondire vari argomenti del mondo dei giochi da tavolo! Ed ecco la più grande novità dell'anno! Finalmente inizieremo anche a mostrarvi i giochi per bambini! Visto che siamo, come sapete, papà e mamma di Giulia e Nicolò che hanno due anni e mezzo abbiamo sviluppato una certa competenza anche in quest'ambito e quindi tenetevi pronti! Ovviamente le novità non finiscono qui ma non vogliamo dirvi tutto subito! Vi diamo appuntamento ai nostri prossimi video e vi ricordiamo che qui a Casa Giullari Si gioca per giocare! Ciao!